Vi conoscete? Dovete dire di sì, perché è un po' di volte che ne parliamo. Lo sapete a me, i loro libri piacciono sempre tanto. Sono Regina e Tina. Ho un giocattolo nuovo. Ciao Tina, cosa stai facendo? Guarda, il mio giocattolo nuovo! Mi piace il mio giocattolo nuovo! Eeeh, cosa fa? Non lo so. Forse è un giocattolo da lanciare? Adoro lanciare giocattoli! Eeeh, tieni, prova! Sì! Eeeh! Bell'aggio! Grazie! Eeeh, eccolo! Ho rotto il tuo giocattolo. Hai rotto il mio giocattolo. Il mio giocattolo nuovo! Sono arrabbiata! E' triste. Sono arrabbiata! E' triste. Mi dispiace. Ti dispiace? È molto. Non mi importa! Il mio giocattolo nuovo è rotto! E l'hai rotto tu! Forte! 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 Forte il tuo giocattolo! Stacca, attacca, stacca, attacca, stacca, attacca, attacca, forte! E vuoi giocare con il mio giocattolo nuovo? E vuoi giocare con il mio giocattolo nuovo? Non voglio giocare con il tuo giocattolo nuovo! No! Voglio giocare con te! Gli amici sono più divertenti dei giocattoli! Mi prendo! Non mi prendi! Prima! Grazie.